Si è concluso il primo appuntamento del nuovo ciclo di mostre organizzate per il recupero di Palazzo Rubini Vesin, antica dimora signorile che è pronta ad ospitare turisti appassionati d'arte da tutto il mondo. Parigi, l'amore e la guerra, prima mostra in calendario che ha ripercorso la vita dell'artista marchigiano Anselmo Bucci, è terminata raccogliendo grande successo tra il pubblico presente. Appuntamento importante oggi al Teatro Comunale di Gradara perché da un lato festeggiamo la chiusura della prima mostra al Palazzo Rubini Vesin dedicata al maestro Anselmo Bucci con le sue incisioni meravigliose. Dall'altro lanciamo, è un'occasione per lanciare, il programma delle prossime esposizioni che saranno allestite per il Palazzo Rubini Vesin che da oggi diventa ufficialmente un nuovo spazio, un nuovo luogo qui a Gradara in pieno centro storico per parlare di arte e per diffondere anche questo tipo di cultura ai nostri visitatori e richiamare al tempo stesso anche altre tipologie di persone interessate al mondo dell'arte. In questo modo Gradara si arricchisce, ulteriormente con questa altra offerta culturale. Un ringraziamento al curatore di questa mostra e delle prossime mostre che è il dottor Luca Baroni che ha fatto un lavoro eccezionale non solo di allestimento, di ricerca dei temi, dei soggetti, delle opere che saranno esposte ma anche proprio di ripensare questo spazio che era l'ex sede comunale, il Palazzo Rubini Vesin che dal prossimo mese acquisterà definitivamente le sue nuove sembianze con un allestimento ad hoc che ci permetterà di ospitare permanentemente una serie di collezioni che vanno dall'arte del Cinquecento fino all'arte pop quindi non ci poniamo nessun limite ad esplorare questo orizzonte artistico che rende la Gradara ancora più interessante da visitare. La regione crede molto nel territorio e nella vicinanza col territorio sono diverse di migliaia di euro che abbiamo dedicato a Gradara anche perché è una realtà dove l'amministrazione comunale è estremamente attiva fa un mare di iniziative e anche oggi siamo qui perché aggiunge uno spazio attraverso il quale poter rappresentare mostre di qualità che vanno ad arricchire già il fittissimo calendario di iniziative per noi motivo per riconoscere questa qualità, questa capacità di attrazione che non si ferma a quanto c'è di bello, la rocca, la storia eccetera ma attraverso l'attivismo dell'amministrazione comunale riesce a attirare tante persone. Noi continueremo, come abbiamo fatto fino ad oggi, attraverso i bandi attraverso le risorse che vanno a sostenere questa attività di accoglienza, di recettività a dare una mano alle amministrazioni comunali ed essere vicini al territorio. Abbiamo scelto Anselmo Bucci come tema della prima mostra di una serie di sette mostre che saranno dedicate al tema della grafica e dell'incisione antica e contemporanea perché Bucci è un figlio delle marche, un figlio del territorio, nasce a Fossombrone nel 1887 e poi ha una straordinaria carriera internazionale che lo porta a diventare tra i primi anni del Novecento e gli anni Cinquanta uno dei più grandi incisori e illustratori internazionali. Proprio per questo motivo, partendo da un luogo, Gradara, dove l'incisione ha sempre avuto un ruolo predominante nella produzione grafica e culturale del territorio appunto, abbiamo scelto Bucci come simbolo della nuova intenzione del Comune di Gradara di offrire delle mostre di alto profilo culturale, sia appunto partendo dal territorio ma anche di profilo internazionale.